Prima di partire, assicurati di essere pronto. Devo lasciare Siwa. Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca? E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serapide. Serapide? Il Dio condiviso da Greci ed Egiziani? Ma certo, capisco. Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto allora. Oh merda. Leila ti serve della ciclosporina. Subito. Non obbligarmi a venire là. Leila. Leila. Riprenditi. Leila, sei sveglia? Avvipti? Ti ho detto di non chiamarmi così. L'unico modo per avere la tua attenzione è farti incazzare. Hai la mia attenzione. Ok, ora fa una pausa. L'animus ti stai spelletto. Sto bene. Già, ma i tuoi regni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh? Com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato. Credi interesserà l'abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico? Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Stai cercando la ciclosporina? Ne ho messa un po' nel kit medico. Vieni, mi incontro. E io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mumia di Bayek. Ma certo, è una chiacchierona. Vieni, mi incontro. E io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mumia di Bayek. Ma... Mi serve quel medico kit. Stai cercando la ciclosporina? La ciclosporina? Due cicci basteranno. Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me. Anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Torno dentro. È davvero grandioso. Stai attenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarà sicuramente al Tempio, come sempre. Grazie a tutti.